Buonasera a tutti quanti, bentornati su Parabellum, questo sarà l'ultimo aggiornamento di quest'anno per quanto riguarda la questione in Ucraina, sono con me di generale Paolo Capitini e Augusto di Millennium 7 perché c'è da parlare dei rumors sugli F-16, su alcune questioni di abbattimenti dichiarati da una parte e dall'altra poco confermati, qualcosa c'è ma il grosso è fumoso, l'utilizzo probabile delle Storm Shadows per quanto riguarda l'affondamento della nave russa, quindi io comincerei soprattutto dalla mobilitazione dichiarata da Zelensky perché come al solito non mancano le polemiche a riguardo. Il Ministro della Difesa conferma un documento di mobilitazione che verrà svelato nei prossimi giorni che riguarda 400-500 mila uomini, io ve lo dico già alla frontiera con la Polonia pare che ci sia tipo l'arressa per chiedere il passaporto, per passare eccetera e quindi non sta venendo vissuta bene questa storia e queste cifre sono veramente grosse, quindi sarà molto difficile per loro riuscire ad amministrare un numero del genere e farlo digerire alla popolazione e infatti a riguardo c'è una dichiarazione di Zaluzni che ci guardiamo che dura circa un minuto e mezzo che già dà le prime avvisaglie sulla maretta che c'è a riguardo perché c'è un rimpallo di responsabilità, in essenza quello che dice Zaluzni è che io non l'ho chiesta, i numeri non sono ancora stati formalizzati dall'esercito, c'è stato tutto deciso dallo staff, cioè dallo staff di Zelensky e Zelensky dall'altra parte invece dice no no no, sono i militari che ci hanno chiesto la mobilitazione, quindi siamo di nuovo alle solite fra i rapporti. ho Café, ho fatto l'asso, ce c'è? lo … ci sono di nuovo, è tutto questo? è tutto questo, diciamo. è tutto questo… è tutto questo, sì. Beh, questo è un po' il torrone, eh? Beh, questo è un po' il torrone, eh? Eh beh, è proprio una risposta al Stato Maggiore, dice noi facciamo richiesta di tutto, munizioni, armamento e naturalmente anche personale. Eh, questa, questa previsione di mezzo milione di persone riguarda, eh, le possibili, la costituzione di nuove unità, bene, il rimpiazzo di personale che sta già alle armi, bene, e in considerazione delle perdite che dovremo probabilmente subire in un anno male. Perché se voi pensate che chiedi mezzo milione di persone perché in mezzo ci metti anche l'idea che hai un ratio di perdite di questo livello, vuol dire che o si aspettano o sanno che da qual'altra parte stanno inventandosi qualche cosa. Perché 500 mila persone è un numero assolutamente rilevante. Oltretutto, eh, nei filmati che circolano in rete negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, si vede che gli attuali uomini alle armi in Ucraina sono tutti di età abbastanza, chiamiamola avanzata, dai 40 ai 50, 55 e ancora più. E non parlo solo di ruoli logistici o amministrativi, ma li vedi nelle trincee queste persone che dovrebbero stare non certamente lì. Quindi dove li vanno a prendere questi 500 mila? Tra i giovani che forse stanno premendo alla frontiera polacca? Può darsi. Ho letto da qualche parte, adesso non mi viene in mente, che sono stati promessi, non so se sono già in atto, dei posti di blocco volanti e dei quasi rastrellamenti di verifica in tutto il territorio ucraino per verificare se i giovanotti che vengono intercettati siano legalmente dispensati dal prestare il servizio militare. Qualora non lo fossero, vengono impacchettati e, come si dice nei verbali, militari, in paridata, inviati ai centri di addestramento. Sì, sono già dettagli a riguardo di gente che viene presa per le strade, diciamo, con la magna e la marmellana. E a sentire la live che hai fatto l'altro giorno con quel ragazzo che è tornato dal fronte, l'addestramento basico dura due settimane, da quello che ha detto lui. Due settimane gli mettono a fuggire e ti mandano via al fronte. E questo apre un altro discorso sull'impiego delle forze che magari affronteremo un po' più avanti. Perché si pone anche un problema di che tipo di forze terrestri, intendo, sei in grado di costruire ricorrendo alla mobilitazione. In sintesi, grandi numeri, bassissima specializzazione, quindi pochissima duttilità di impiego. Puoi fare poche cose con gente poco addestrata che è in così grande numero. Vedremo un po' più avanti, magari ne parliamo, quali sono le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare. A me fa un po' specie vedere che lui dice, io non l'ho chiesta, Zelensky dice invece, no veramente l'avete richiesto voi militari, lui dice sì ma noi chiediamo armamenti, uomini, eccetera, un rimbalzo di responsabilità. È come se Zelensky dicesse, no no sei te che mi hai chiesto i uomini, io te li sto fornendo. E invece Zelensky dice, no no, questa è una cosa decisa dallo Stato Maggiore, dai politici, noi facciamo il nostro ruolo, noi diciamo che ci servono uomini, poi il numero lo dichiarate voi, perché se chiedi 500 mila uomini è veramente tanta gente. Mi ha fatto pare che sia tra i 27 e i 60 anni. Ancora non qui giovedì. Si tratta di vedere come si articola questa mobilitazione, cioè se viene scaglionata, che ne so, 50 mila al mese, per dire, hanno le strutture addestrative per farle, che quali ruoli vanno a ricoprire, 500 mila è il risultato finale o è il bacino di mobilitazione? Dopodiché ti accorgi che 80 mila, 100 mila persone non hanno una gamba e non possono essere ruolate, per esempio. Cioè qual è l'output finale? 500 mila? Da quello che gira sempre in rete, sembra che stanno pescando proprio, stanno dichiarando abili anche persone che hanno perso un arto in combattimento, che in nessun altro esercito verrebbero impiegati. Certamente non verranno impiegati, se è confermato in prima linea, però fa specie pensare che uno che ha combattuto ed è rimasto mutilato senza un braccio, dopo un anno di questo trattamento si ritrova in qualche magazzino ancora a servire il paese, anziché starsene a casa a curarsi. Dà un'idea, è anche un messaggio un pochino pesante circa la capacità di proseguire la guerra a questi livelli. Sono tanti uomini da gestire, poi visto l'addestramento che ci testimoniava il ragazzo Yuri l'altro giorno, due settimane, sono veramente poche. E quando l'ha fatto lui era un anno fa, quindi quando c'era anche più tempo e più disponibilità. Non lo so, io vedo i russi. Neanche i russi riescono a gestire 500 mila persone e ce ne hanno, hanno dimensioni di centri addestrativi che si contano a decine, non a due o tre. Ci hanno le infrastrutture e il personale per poter gestire l'addestramento basico, che non è poi così facile, perché è quello che poi ti rende sul campo di battaglia. Se tu hai la consapevolezza che più o meno ti hanno addestrato bene, vai lì con un certo spirito. Se non sai neanche qual è la destra e la sinistra, la prima scoppiattata, te ne vai. Saluti a tutti e scappi. Veniamo alla questione più chiacchierata, per questo che ho chiamato Augusto. Gli F-16. Ci sono dei video che mostrano gli F-16 in stato di spostamento, smontati dall'Olanda. Sappiamo che ci sono gli F-16 in addestramento in Romania. I militari blogger russi sono tutti agitati e dichiarano loro, non rompete le scatole a me, dichiarano che probabilmente almeno un gruppo 16-18 sono già stati in Ucraina, non ci sono prove del loro utilizzo, quindi quello che possiamo fare noi è speculazione del tipo di utilizzo che verrà fatto e del tipo di armamento. Ed è per questo che c'è Augusto, così ci può spiegare bene l'Italia, cosa li potrebbero dare e cosa sicuramente non li daranno per questioni di segretezza militare. Prego. Allora, è abbastanza interessante vedere come certe voci tendono a diffondersi. Come hai giustamente detto tu, oggi non abbiamo nessuna prova, nessuna dichiarazione ufficiale dei russi che sono sempre pronti a annunciare la presenza di sistemi nuovi, anche se prima che arrivi. Non abbiamo foto, non abbiamo Ucraina, non abbiamo video, non abbiamo praticamente nulla. Si è cominciato a parlare degli F-16 quando alcuni giorni fa gli ucraini hanno dichiarato di avere abbattuto 3 su 34 che stavano attaccando la testa di ponte sul lato sinistro del Nieper o comunque le aree circostanti. Lì si è cominciato a parlare di F-16 che era un agguato di F-16. A mio avviso è non possibile perché le distanze non ci sono, i veloci sono stati colpiti, hanno cinquantina di chilometri. Dalla linea del fronte la situazione non è realistica, nel senso che gli F-16 con le versioni dell'AMRAM, che è il missile aria a guida attiva, che probabilmente verranno fornite all'Ucraina, a quella non hanno, sono veramente i limiti della gittata. Per fare un'operazione di questo tipo non sparerebbero nemmeno e avrebbero dovuto essere ad una quota così elevata, che sarebbero stati, ad alta velocità, che sarebbero stati comunque visibili dai russi, dalle difese aeree russe o dalle combat air patrol russe. Sappiamo da situazioni precedenti che nella zona operano il MiG-31 con l'R-37 che, agitate tranquillamente di un paio di centinaia di chilometri, sarebbero stati molto probabilmente attaccati prima. e per cui allo stato attuale non mi sembra che siano operativi o se sono operativi non si sono fatti vedere. Raibar, che guardavamo prima di entrare in live, commenta che è possibile che il primo squadro non sia operativo nell'Ucraina occidentale. Se tecnicamente è possibile che i piloti abbiano ricevuto un minimo di addestramento a questo punto per un gruppetto di piloti, quelli che hanno iniziato per primi, se abbiano raggiunto la certificazione e siano in grado di operare il velivolo, mi sembra strano che sia stata costruita l'infrastruttura per operare gli F-16. Nel senso che la cosa che è sempre rimasta più dubbiosa è proprio più dubbiosa in tutta l'intera questione degli F-16. È stata proprio l'idea di fornire agli ucraini la possibilità di supportare gli F-16 in campo. Cioè i polacchi che hanno avuto la stessa esperienza, sono passati da velivoli di tipo ex-sovietico, sono stati prima occidentalizzati, aggiornati con sistemi di comunicazione, gli F-15 e i sistemi di identificazione della Nato. Dopodiché hanno acquisito gli F-16. Ci hanno messo quasi dieci anni prima di avere il primo squadron di F-16 operativo. Il problema non sono mai stati i piloti, il problema è sempre stata la logistica e la formazione del personale di terra. Anche perché l'F-16, anche nell'aeronautica americana, in tutte le aeronautiche europee che l'hanno avuto, fa sempre comunque ricorso a parecchi contractor privati. non è mantenuto completamente dai militari. E questo in una situazione come quella ucraina può essere effettivamente un problema. La cosa che a me preoccupa, è preoccupato fin dall'inizio, sapendo di queste cose, è il fatto che abbiano idea di operare gli F-16 per metà dall'interno dell'Ucraina e per metà da qualche paese nato. Probabilmente non voleranno mai e poi mai una missione di combattimento da un paese nato all'interno dell'Ucraina, ma il grosso del supporto sarà al di fuori, che poi è tutto sommato il modello che stanno usando anche per tutta una serie di altri sistemi. In Ucraina, correggimi se sbaglio, non ci sono fabbriche o installazioni per riparare i Leopard, per riparare i Bradley, per riparare gli M777 e così via. Quindi, a mio avviso, questa potrebbe essere una cosa estremamente a rischio escalation, alto rischio escalation, perché se li trasporti da terra puoi probabilmente in qualche modo far finta che non succeda, ma se volano da una base all'altra, anche se sono nell'Occidente dell'Ucraina, poi diventa difficile effettivamente sostenere che non stanno operando dal di fuori dell'Ucraina. Detto questo, ragioniamo su cosa potrebbe succedere, come potrebbero essere utilizzati gli F-16. Allora, gli F-16 MLU, a meno che non abbiano a tempo di record cambiato alcuni sistemi, ma non mi risulta, sono stati semplicemente revisionati e riportati a uno stato di funzionamento. Ecco, gli F-16 MLU che derivano appunto da Belgio, Olanda, Venimarche, Norvegia, sono abbastanza vecchi, sono velivoli che sono abbastanza vecchi e se confrontati con i più recenti velivoli russi, per esempio, con il Su-35, il Su-35 è chiaramente superiore. L'Ontario ha altri velivoli che vanno alla pari, possono andare alla pari anche leggermente superiori al Su-35, ma complessivamente il Su-35 è in generale superiore agli F-16. L'altro elemento estremamente importante è quali armi riceveranno, perché questo alla fine è il punto che li può rendere efficaci. L'arma aria-aria è ovviamente l'AMRAM, che è più o meno il missile occidentale standard, però dell'AMRAM ne esistono varie versioni e l'AMRAM della serie D, che è quello l'ultimo, che è quello normalmente utilizzato dall'aeronautica americana e da tutte le aeronautiche che usano, che stanno prendendo l'F-35, è completamente diverso, molto diverso rispetto alle versioni precedenti e in particolare è una gettata decisamente superiore dovuta non solo a miglioramenti materiali, ma anche a miglioramenti del software di guida tale per cui quel missile può volare dei profili che gli consentono molto efficienti che gli consentono di volare molto lontano. Il punto è che queste sono l'ultimo tipo di missile ed è improbabile che gli ucraini li ricevano perché se cadessero in mano ai russi probabilmente qualche problema lo darebbero. Noi abbiamo visto questo pattern in cui un'arma una nuova arma introdotta in mano agli ucraini è estremamente efficace all'inizio poi l'efficacia vale per tutti per entrambi c'è sempre il diminishing effect quindi quali sarebbero quelli più probabili in dotazione e qual è il gap tecnologico rispetto a quelli utilizzati dai russi tipo di 77 esatto allora a mio avviso stiamo parlando della versione precedente dell'Eldi allora l'amram A è vecchissimo non credo che se ne esistano più in condizioni l'amram B è anche quello obsoleto ed è in mano ed è probabilmente in via di radiazione se non radiato da quasi tutti quelli utilizzati sono gli amram C il punto è che c'è una grossa differenza tra il C6 e il C tra il C1 dall'1 al 6 e dal 6 all'8 perché col 6 cambiano la spoletta e il motore del missile le varianti dal C6 e il C8 sono molto più simili all'amram D l'ultima variante che quelle precedenti quindi presumo che immagino che riceveranno i missili delle prime varianti del C dall'1 alla 6 e queste hanno che sono poi tra l'altro quelli che erano in dotazione anche alle aeronautiche dei paesi che abbiamo citato prima e questi hanno gittate una gittate decisamente inferiori sia all'R77 all'R77M o all'R37 che sono ormai missili standard russi quindi questa è una prima grossa differenza che li mette in inferiorità rispetto ai velivoli russi la seconda grossa differenza è il radar gli F16M hanno un radar che è la PG-66 che è un ottimo radar pulsedoppler ma è ancora un radar a scansione meccanica mentre ormai i velivoli russi hanno radar pesa che sono radar con antenna fissa con una tecnologia che consente di avere una scansione dello spazio aereo molto più rapida di gestire eventualmente fasci una serie di vantaggi molto rilevanti in termini di identificazione del velivolo l'F16 non è per nulla stealth per cui è visibile a lunghissima distanza quindi in essenza Augusto come utilizzeranno questi F16 come vettori per ovviare agli sganci delle delle bombe fab ora utilizzate con il kit diciamo che la rende gliding o verranno utilizzati come vettori di restaurant shadow perché se il divario tecnologico è quello che dici te sarebbe poco auspicabile uno scontro diretto con la forza da caccia russa e poi c'è quel discorso che mi dicevi te dell'IS400 perché ultimamente il numero di abbattimenti da una parte e dall'altra sono aumentati o almeno quelli dichiarati anche se poi poi vedremo alcuni sono confermati allora dal punto di vista ariaria a mio avviso nella battaglia aerea sono in inferiorità forse non di moltissimo forse si possono le imboscate si possono fare esistono sempre le tattiche l'uso intelligente dei sistemi e le tattiche possono sempre compensare qualcosa quindi è possibile che la vita anzi sicuro che la vita nell'arena ariaria dei russi si diventerà un po' più difficile ma non credo di molto la differenza a mio avviso la fa la missione ariassuolo con gli F-16 possono arrivare anche una serie di armi ariassuolo che aggiungono che possono aggiungere qualche cosa una che è abbastanza diffusa è la GM-154 che è una bomba bomba planante americana però in questo momento è usata solo dalla marina l'aeronautica non la usa che credo sia stata che è stata integrata sugli F-16 MLU ed è ed è stealth ed è molto precisa ha un ha un raggio ha un raggio di planata decisamente lungo e può essere un'arma di precisione che si mette a fare parte del lavoro che oggi fanno gli storm shadow o che farebbero gli atacams o a distanza inferiori potrebbero fare gli MLRS cisa che ha differenti sistemi di guida e che potrebbe essere una buona alternativa per gli ucraini anche in questo caso si tratta di un'arma di precisione che può implementare integrare gli armamenti di precisione che hanno già ricevuto e terza cosa lo harm lo harm è stato già usato integrato su MiG-29 su MiG-27 però l'integrazione era veramente basica non era sostanzialmente programmabile in volo a quanto pare gli F-16 possono invece programmare il missile in volo non so esattamente se il sistema di guerra elettronica dell'aereo è in grado di fornire automaticamente la soluzione di tiro al harm o il pilota deve manualmente inserire le coordinate però di sicuro il missile diventa programmabile quindi potrebbe essere più efficiente e allora che scenari si aprono allora dal punto di vista aria è abbastanza improbabile che tentino qualcosa di serio però potrebbe essere un importante aiuto per difendersi dai missili da crociera e dai droni dal punto di vista aria suolo è possibile beh insomma è possibile una cosa interessante potrebbe essere in concomitanza con un'offensiva di terra quando sarà la prossima se ci sarà una prossima avere un'operazione contro le difese aeree russe che sono la chiave di volta di tutto il meccanismo in cui vengono utilizzati in massa tutti questi velivoli in modo da privare una zona del fronte e danneggiare gravemente in una zona del fronte le difese aeree russe e usare questo come 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 diciamo un po' alla sovietica interdire un corridoio e operare solo in quel corridoio dove è il bonificato diciamo dubito che possono avere possono acquisire la 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 superiorità aerea l'air dominance su tutto il fronte ma magari in all'interno di una situazione in cui appunto vogliono vogliono utilizzare posso cioè questo li metterebbe in grado utilizzare il potere aereo un minimo di copertura aerea per coprire un'offensiva una cosa un po' come volevano gli americani all'inizio della programmazione di questa offensiva cioè qualcosa di molto localizzato molto concentrato su un singolo obiettivo poi gli ucraini hanno scelto di fare tre attacchi a Zaporizia uno a BAC gli americani ne volevano uno concentrato stavolta il potere aereo se ne hai poco lo devi concentrare tutto per coadiuvare l'azione di terra con degli obiettivi ben specifici per tagliare un po' anche le gambe a questo quindi alla fine questi aerei russi secondo te chi li ha battuti evidentemente non sono gli F-16 probabilmente non sono tanto rumore per lui nel senso che sembra che da parte russa sembra che l'unico abbattimento davvero confermato sia un Su-34 di ritorno come diceva il generale prima da una missione d'attacco appunto nell'area del Dnieper se non sono stati gli F-16 è più che possibile che sia stata la terza batteria di Patriot che è stata dislocata nell'area sembrava fosse stata colpita da un attacco russo ma almeno parzialmente sembra attiva dico che siano i Patriot perché probabilmente sono gli unici che hanno un raggio d'azione tale da poter giustificare una situazione del genere a 50 km dalla linea del fronte probabilmente anche i nostri Samp-T se fossero posizionati molto vicino al fronte potrebbero farcelo ma è veramente pericoloso sarebbe veramente pericoloso disporresti veramente a un rischio poi ci sono stati tutta una serie di ultimamente una serie di claim di dichiarazioni che sono stati abbattuti x aerei da una parte dall'altra eccetera non ce ne sono molte non ce ne sono molte di conferme pare che quelli confermati siano un su 24m russo vicino all'isola dei serpenti un su 34 e un aereo ucraino questi sono i tre confermati poi da una parte dell'altra ne dichiarano quattro ne dichiarano tre ma di quelli confermati bene o male sono questi il problema è che gli aerei russi normalmente cadono scusa gli aerei russi normalmente cadono in territorio controllato dai russi gli aerei ucraini normalmente cadono in territorio controllato dagli ucraini nessuno dei due ha interesse di andare sul luogo dello schianto e fare una foto per questo che è veramente difficile andare a confermare questi abbattimenti quello che si può rilevare però anche lì va preso con un macigno di sale è il fatto che nell'ultimo paio di mesi i russi hanno dichiarato abbattimenti di velivoli ucraini diciamo in quantità un po' superiore a quello che accadeva nelle quello che stava accadendo nel passato quindi è in base alla legge che comunque devi dividere le perdite dichiarate per tre o per quattro qualcosa probabilmente è successo la cosa interessante però è che hanno dichiarato che tutti questi abbattimenti sono stati diciamo eseguiti dalle difese aeree ora e molti di questi abbattimenti avvenivano 30, 40, 50 chilometri dalla linea del fronte ora il punto è se questi velivi siccome gli ucraini li abbiamo visti molte volte volare molto bassi per rimanere sotto l'orizzonte radar delle difese aeree russe che è ovviamente normale o gli ucraini sono improvvisamente impazziti e hanno deciso di volare ad alta quota o i russi hanno trovato un modo di indirizzare le difese aeree contro i velivoli in volo a bassa quota ora questa è solo la mia speculazione nel senso che uno dei grandi misteri dell'aeronautica russa la difesa russa è il livello di integrazione tra i differenti velivoli i vari sistemi nel senso che si sa che esiste integrazione che i russi hanno difese aeree integrate il livello dell'integrazione però è tutto da capire ci sono alcune cose sicure per esempio come funziona i datalink su 35 o il datalink dell'S400 però tra sistemi diversi abbiamo pochissimi dati ora quello che a me viene da pensare è che i russi abbiano messo in linea o introdotto quello che gli americani hanno provato a fare due o tre anni fa con l'F35 cioè avere un AWACS un aereo radar via 50 che possono controllare via datalink i missili lanciati dagli S-400 i missili lanciati dall'S-400 hanno una notevole gittata possono tranquillamente volare due o trecento chilometri in una traiettoria di tipo parabolico e se un aereo radar che invece è in grado di vedere i velivoli in volo a bassa quota potrebbe effettivamente dirigere i missili lanciati dagli S-400 contro questi velivoli a bassa quota anche se normalmente i normali radar di guida dell'S-400 non li vedrebbero perché sono sotto un orizzonte radar sappiamo che l'S-400 sappiamo confermato che l'S-400 ha la capacità di acquisizione post-APEX cioè nel momento in cui comincia a scendere può acquisire può anche acquisire il bersaglio non ha bisogno che gli sia fornito prima il bersaglio quindi in teoria se appunto gli A-50 gli aerei radar russi avessero effettivamente a bordo una forma di data link in grado di guidare l'S-400 questo sarebbe in teoria perché riescono infatti a mantenerli in volo di una cosa di cui ci siamo un po' stupiti vista anche l'età della cellula quindi sicuramente non sono stati gli F-16 a fare l'attacco alla nave per Cassia probabilmente sono stati delle Storm Shadow e qui intanto faccio vedere l'attacco di per sé e anche le dichiarazioni russie soprattutto la speculazione di questo generale della Bundeswehr che ha dichiarato delle cose che hanno senso e non hanno senso allo stesso tempo perché è nel raggio insomma fattibile ecco questo è per dare un'idea la cosa che a me fa un po' sorridere è che dopo che abbiamo visto questo attacco e soprattutto quello che si vede ancora di più nel porto e poi abbiamo le immagini satellitari i russi hanno dichiarato hanno ammesso che in effetti la nave è stata danneggiata il livello è diverso secondo te è stata danneggiata Paolo così a occhio insomma una bella sfiammata gliela ha presa ho qualche dubbio che fossero droni a bordo sembrerebbe più le spavere munizioni più che munizioni penso carburante carburante solido per missili o per razzi per esempio perché fa un fiammatone in alto se vedi pochissime proiezioni di schegge e guarda per esempio l'ho guardato intorno al molo non sono neanche piegate fa questa scampata verso l'alto vedi e poi li finisce però una cosa interessante è il fatto che si è riuscito a tirare uno storm shadow addosso a una nave in pieno porto a monte di questo c'è da dire se prendiamo assolutamente per vero quello che diceva prima il collega è che per fare questo tipo di attacco devi avere un profilo un profilo di missione molto basso devi riuscire a volare basso per arrivare al punto tale di sganciarli i missili e farli arrivare qua domanda come fai a sapere che la caccia russa non ti sta aspettando al varco lo puoi sapere solo se quella finestra finestra è garantita dall'osservazione di qualcuno che l'Ucraina non ha mi spiego come fai a sapere che non c'è in volo la 50 russo in quel momento che ti traccia il volo a terra lo puoi sapere solo se c'è un altro AWACS che ti assicura che in quei 40 minuti non c'hai c'hai c'è un momento una porta aperta e questo ti eh? chiedo scusa ecco un altro degli interessanti misteri del conflitto ucraino è capire qual è il livello di integrazione dell'aeronautica ucraina con gli asset di intelligence questo è una prova indiretta e palese se devi volare basso con un cappello di osservazione russo attivo sia per gli A-50 sia per il radar di scoperta dei dei oddio per le sigle dei 31 è una missione suicida praticamente il il semaforo verde divene dato se qualcuno che vola più in alto è fuori da questo spazio dice guarda dalle dico una scemenza dalle 3 alle 3.25 sembra che non ci sia nessuno perché il pilota è a mezza c'hai 25 minuti per fare questo tipo di missione la fai la fai bene e te ne vai via e te ne vai via se ci riesci perché poi da quello che è sembrato che nel viaggio di ritorno questi aerei siano stati intercettati invece dagli aerei in cap per chi non è del mestiere cap vuol dire combat air patrol nel senso che c'è sempre qualcuno per aria coppia che gira intorno tipo l'avvoltoio è una missione costosissima è molto dispendiosa molto faticosa ma tu c'hai sempre qualche aereo in volo che è pronto a intervenire istantaneamente forse questi che facevano questa missione hanno illuminato gli aerei in rotta di scampo e l'hanno tirati giù con missili che arrivano a due trecento chilometri di distanza come è stato detto quindi ce l'avrebbero fatta tranquillamente questa poi chiaramente tutti quanti sono stati dirottati sul sul grande effetto dell'affondamento di una nave che è stato un botto eccezionale veramente gran botto questo sicuramente sì però questo nasconde questi altri due aspetti che per fare una missione di questo tipo devi avere un via libera di un corridoio temporale e anche un corridoio di spazio aereo che qualcuno e non sono certi gli ucraini ti deve dare secondo che i russi hanno la capacità a questo punto di reagire nei tempi in cui sei ancora sulla volta di scampo poi chiaramente è stato un colpaccio eccezionale non il migliore che potevano avere sembra perché a fianco a questa nave ce n'erano altre molto più appetitose diciamo così però guarda io in questo ti posso dire qualcosa in più c'è una chiaramente una strategia nei bersagli scelti dagli ucraini se ci fai caso hanno colpito tutte le navi da sbarco e logistiche quelle più grosse che portavano equipaggiamento a Berdia non ti so spiegare i motivi ne discutevamo prima con Augusto in pre-live ma gli iraniani portano dal dal Mar Caspio quello che vendono ai russi dall'altra parte del Mar Caspio i russi lo caricano sui treni fino più o meno dalle parti di Rostov o comunque su quella parte della costa e li vengono imbarcate e portate a Berdiansk il perché non passano via tutto via treno io ho provato ad accampare questa motivazione dato che la ferrovia sul corrido di Zaporizia piega fa quella specie di curva troppo vicina al confine preferiscono portarle via mare e gli ucraini infatti hanno bersagliato le navi che sparano missili calibre per ovviare ovviamente alla campagna strategica contro l'infrastruttura energetica ucraina e navi logistiche cioè tutte le classi ropuccia navi da sbarco e cose del genere e finora hanno preso tutte quelle più grosse quindi la strategia ha senso anche se magari potevano colpire che sono un destroyer una corvetta sono più interessati a quelle che aiutano la logistica e a quelle che lanciano missili calibre e dai dati che vengono fuori negli ultimi 4 mesi se uno fa due conti sulle navi colpite nel Mar Nero hanno perso il 20% della flotta in 4 mesi che cominciano ad essere numeri piuttosto rilevanti anche perché io sono andato a vedermi i programmi russi per dire nuove navi logistiche erano pianificate nel 2019 invece sono state posticipate non se ne vedranno di nuovo fino al 2026 2027 quindi i russi dovranno essenzialmente fare quello che sarà di questa guerra per i prossimi due anni tre anni senza nuove navi di questo tipo che entreranno in servizio quindi è una strategia mirata come lo è stata la strategia degli sbarchi ucraini in Crimea cioè colpivano sistemi S-400 e sistemi di allerta radar per rendere questo lavoro sempre più facile quindi se la campagna terrestre sicuramente è stata fallimentare quella navale è sicuramente quella dove gli ucraini hanno avuto maggior successo considerato quello da cui partono cioè niente essenzialmente perché non hanno una marina il barchi di navale sul bersaglio è una campagna aereo terrestre condotta contro bersagli navali praticamente la marina non c'entra questa è una campagna aerea molto aerea con qualche spurzata di terrestre se facciamo se facciamo ammenda dei barchini dei mesi passati dei barchini dei droni dei droni barchino che hanno usato nei tempi passati no no sicuramente un grande un grande successo e la spiegazione del colpire il trasporto logistico è più che valida è più che valida è un buon utilizzo dell'armamento che si ha a disposizione solo che sembra che se ogni volta che tiri i missili perdi un aereo o due quindi perdi anche i piloti perché se voli così basso la possibilità di sparire se perdi un aereo butti giù una nave se me lo scambio è accettabile anche se poi per l'aeronautica nota perché con quei profili di volo così basso se ti prende qualcuno li rimani non è che puoi sperare di salvare il pilota non è che e ricordiamoci che l'aeronautica ucraina per quanto si dice è due anni che combatte ha avuto un suo rateo di perdite elevata elevato elevato sicuramente tornando al discorso avevo una domanda io da fare perché poi ci sono delle cose che incuriosiscono anche me abbiamo parlato dell'F16 come macchina singola come capacità difetti possibilità di impiego la domanda è ma quanti sono? quanti sarebbero? se Amazon gli riconsegna tutti quanti dovrebbero essere? perché anche il numero in questa cosa c'è una sua valenza allora diciamo da 40 a 60 direi più verso il 40 che verso il 60 e il che significa probabilmente tre squadri non di più nel 60 in volo 30 come? in volo 30 35 sempre operativi sempre operativi sì una frentina 25 30 molto probabilmente e ripeto una delle incognite è esattamente il livello di supporto logistico se devono se devono farli volare dentro e fuori la Romania o la Polonia per il supporto questo probabilmente ne migliora aumenta i rischi da un lato ma ne migliora la logistica aumenta dei rischi automatici perché quando un aereo cioè è difficile cominciare a spiegare ecco un aereo che vola con qualunque profilo combat che decolla da un paese nato e colpisce un obiettivo di un paese in guerra e comincia a diventare un po' un po' complicato spiegarlo ecco spiegarlo a qualcuno e convince il resto del mondo che tu in realtà fai solo rifornimento ma non sei tu il cattivo in pratica ti volevo chiedere una cosa visto che anche chi commenta dice li sto lanciato per raggiungere quell'obiettivo non necessitano di essere lanciati da oltre il fronte mi pare e infatti qui ti volevo chiedere se secondo te ha senso questa dichiarazione del generale della Bundeswehr Erhard Buller che dice sulla distruzione della nave da sbarco dove cercassi nel porto di Feodosia in precedenza si credeva che l'Ucraina avesse ricevuto una versione di esportazione di questi missili con un'autonomia di 250 km e lì ci siamo tuttavia secondo Buller se le AFU riuscissero a raggiungere Feodosia ciò potrebbe indicare che hanno la versione originale del missile stronsciato con una gittata di 560 km però ad oggi questo è l'unico bersaglio che loro hanno colpito che si trova al limite teorico dichiarato perché poi noi a differenza dei russi abbiamo sempre la tendenza di chiarare meno dell'efficacia mentre i russi tendono a dichiarare più della reale efficacia allora la gittata degli stone shadow è artificialmente limitata a 300 mila nautiche perché esisteva un trattato che credo adesso sia stato denunciato relativo alla gittata dei missili da crociera e alla proliferazione dei missili da crociera ed effettiva e mi sembra se ricordo bene l'esportazione era limitata a 300 km di portata infatti di questo sono sicuro il Brahmos che è il missile super che è un missile supersonico indiano derivato da progetti russi costruito dai russi è stato artificialmente limitato cioè non ha abbastanza carburante proprio per rimanere sotto questa cittata credo che poi la cosa si trattate siano stati denunciati intanto si è stato denunciato più o meno subito prima dell'inizio dell'ostilità in Ucraina nell'anno scorso quindi probabilmente non è più valida però insomma non sarei stupito se gli ucraini avessero ricevuto una versione agittata a lunga agittata del missile non ne sarei in questa situazione non ne sarei assolutamente stupito anzi francamente andavo quasi per scontato che avessero ricevuto l'arma al pieno delle potenzialità perché dal punto di vista anche quello dal punto di vista del rischio security non cambia nulla è una limitazione artificiale quindi non ecco per dare una quadra e rispondere anche a questa domanda la tanto attesa offensiva strategica contro l'infrastruttura energetica è in atto oppure no SNI nel senso che il numero di droni utilizzati è sempre più alto quello di missili un po' meno però è molto continuativa ci sono stati attacchi 23, 24, 25 gli ultimi sono avvenuti a Odessa ieri sono sbagli o ieri l'altro qua si possono vedere benissimo le rotte utilizzate sia dai droni che dai missili è un ottimo articolo quindi vi consiglio di guardarlo e si capisce anche la strategia inversa cioè quella ucraina guardate dove è stato abbattuto il Su-24M russo guarda caso proprio da questa zona dove probabilmente sganciava qualche missile e in genere il grosso per quanto riguarda la parte della marina veniva proprio da questa zona io sapevo dai tempi ora lo posso dire perché ormai è il segreto di Pulcinella dato che il Patriot ha sparato ma dai tempi di 8-9 mesi fa che gli ucraini avevano piazzato una batteria guarda caso a sud di Mikolaiv che è esattamente adatta per intercettare qualsiasi missile che viene lanciato o da ovest della Crimea o dal Mar Dazov si può vedere che la maggior parte viene dal fronte di Zaporizia quindi si capisce quale sono le priorità ucraine in questo senso e perché quasi tutti gli scontri aerei o missilistici avvengono proprio in questa zona ecco parlato Odessa che è stata attaccata ho sentito oggi Ugo Poletti mi ha confermato che ci sono le Gepard che sparano perché è esattamente il suono che lui sente tutti i giorni quando avvengono gli attacchi si possono vedere nei video i traccianti diciamo dei dei vari dei vari Gepard proprio a Odessa che intervengono però per lo più sono droni per la maggior parte delle volte sono sono droni pochi missili però probabilmente servono a saturare servono a far consumare servono a far consumare servono a tenere la pressione sempre elevata a un prezzo minimo perché la campagna la campagna missili contro gli obiettivi strategici di questo tipo subisse un'accelerazione in funzione della possibilità di legarla a un'attività di terra in assenza di un'attività di terra cioè in assenza di una possibile offensiva russa da qualche parte si fa il minimo sindacale di colpire quello che sicuramente un danno glielo fai li tieni sempre sulla graticola li fai consumare e questo è il principio quando noi abbiamo dichiarato guardate che noi vi abbiamo già dato tutto fargli consumare qualsiasi cosa di contraereo hai già raggiunto un obiettivo almeno a livello operativo qualsiasi cosa gli tiri anche una scarpa va bene basta che gli spari addosso con qualcosa perché quel qualcosa comincia ad essere difficile rimpiazzo una cosa che trovo interessante di questa mappa non è tanto le zone da dove partono i missili quanto i bersagli cioè alla fine di quelle due strisce gialle che se non ricordo male sono sono i droni se vedete ci sono due punti nell'Ucraina occidentale non so esattamente cosa ci sia lì lì esattamente dunque l'area lì è l'area da cui arrivano i rinforzi nato dalla Polonia è un punto di snodo ferroviario importante come se vai a vedere tantissimi droni vengono lanciati nella zona di Dnipro e Zaporizia perché qui sono basate le forze aeree ucraine almeno la maggior parte delle missioni sono basate intorno a questa zona e hanno un paio di batterie se ricordo bene tedeschi per coprire proprio questa questa zona qui hanno una batteria patria un micolaiv e una intera ad Dnipro cioè addirittura hanno dedicato un'intera batteria ad Dnipro invece che coprire Chieva tra l'altro c'è anche una soluzione che secondo me è interessante non so se ha visto il frankensam sì certo è un vecchio sistema il BUC sovietico di cui pare che avessero esaurito gli ucraine avessero esaurito le munizioni per cui è stato riadattato per guidare il SISPARO che è un sistema ormai non più utilizzato di missili superfici aria sono missili superfici aria guida radar semiattiva e che erano di utilizzo navale soprattutto che ormai sono stati la grande maggioranza dei casi soppiantati da sistemi differenti più moderni e probabilmente ci esisteva ancora una grande abbondanza di questi sistemi Agosto va a testimoniare quando io e Paolo si fece l'analisi sui leak della Nato dove faceva vedere che entro 3-4 mesi avrebbero finito i missili proprio dei BUC che poi rappresentavano il 60% delle difese aeree ucraine come hanno ovviato noi abbiamo detto o trovavano dei missili o trovavano una soluzione tecnica questa è stata la soluzione tecnica per ovviare visto che i sistemi d'arma ce li avevano i missili però non li producevano perché erano di origine sovietica come al solito in guerra ci si arrangia quindi hanno salvato un sistema d'arma adattandolo al lancio di sistemi occidentali quindi questo è il motivo per cui il 60% delle dell'antieree ucraine continua ad operare pur avendo finito i missili di origine sovietica perché la gente tende a prendere le cose letteralmente quando io vi dico stanno per finire i missili tipo non vuol dire che domani mattina l'aviazione russa fa quello che gli pare dall'altra parte come fanno esattamente i russi la gente si arma di ingegno e di buona volontà e trova la soluzione ed ecco il frankensam infatti no è abbastanza è abbastanza interessante cioè è probabilmente possibile perché sono sistemi relativamente semplici innanzitamente se non tutto sommato sono probabilmente se se vengono guidati cioè l'unico parametro veramente l'emissione è la compatibilità meccanica dell'emissione del radar probabilmente per renderli per renderli compatibili sono appunto sono sistemi abbastanza semplici non hanno bisogno di una soluzione di tiro anche nel profilo di buona visto che tu ci hai parlato dell'integrazione dell'IS-400 con probabilmente un sistema di guido diciamo esterno secondo te ha senso questo attacco degli ucraini all'antenna di comunicazione satellitare dell'ente spaziale russo in Crimea c'è qualche collegamento con questa cosa? no da questo punto di vista penso proprio di no mi viene da pensare però una cosa differente cioè che fosse utilizzata per comunicare con i satelliti da ricognizione russi ecco questa è una cosa che voglio dire non vorrei rubare tempo ma è una domanda che avevo per il generale cioè nel senso che considerando che il campo di battaglia è estremamente trasparente per cui è estremamente difficile ottenere la sorpresa tattica perché l'intelligence in tutte le sue forme dal drone al satellite ormai copre tutto come se ne esce nel senso come si esce dallo stallo che è causato da questa trasparenza del campo di battaglia cambiando le dimensioni almeno mi viene da rispondere così su due piedi cioè orientandosi o all'eccezionalmente piccolo o all'eccezionalmente grosso e potente del tipo o uso un sistema di guerra terrestre fatto da unità speciali con obiettivi limitati che è talmente piccolo che è praticamente irrilevabile e il danno tutto sommato se viene cumulato nel tempo può essere comunque sensibile oppure ho una forza tale e tanta che anche se te ne accorgi ti spiano lo stesso il fatto che ti accorgi che ho 700 carri armati mi fa solo piacere ti metto solo paolo scusa sentitelo a questo è la via di mezzo che è stata cancellata è il livello gruppo tattico è il livello brigata è il livello diciamo di una formazione di combattimento che andava in bene 10-15 anni fa una robusta formazione di combattimento ma comunque maneggiabile da una difesa ecco quella c'ha delle grosse perplessità facciamo un'iperbole scoprire stasera che dall'altra parte del confine russo ci sono 60.000 soldati completamente equipaggiati armati fino ai denti è vero che non ho la sorpresa però la domanda dopo è con cosa li fermo una volta che so che ci sono oppure io non so se stasera attraverso il confine vengono infiltrati un distaccamento di 20-30 10 forze speciali con un obiettivo preciso che uno stasera uno domani sera mi rendono insicuro tutto un fronte è la via di mezzo che secondo me viene cancellata o viene ridistribuita con questo discorso guarda quello che stai dicendo capita fagiolo come si dice perché la nuova tattica russa ha abbandonato completamente l'utilizzo di grosse unità e praticamente tutto quello che stanno facendo lo stanno facendo praticamente a livello di piccole compagnie per darti un'idea su tutto il fronte cioè hanno rinunciato a fare quello che hanno tentato di fare gli ucraini durante l'offensiva hanno tentato all'inizio a livello di brigata poi l'abbiamo letto il briefing non sto qui a ripetermi andate per recuperare live precedenti ma essenzialmente Zaluzini si è accorto che a giro a livello di brigata il reggimento non funzionava i campi minati sono troppo profondi l'avversario sa esattamente dove sei quindi si è risolto tutto con piccole azioni i russi ora stanno facendo la stessa cosa incontrano esattamente gli stessi problemi che hanno incontrato gli ucraini nell'offensiva sul fronte di Zaporizia vedi la storia di Avdifica andate per recuperare le live tutte le perdite sono certificate geolocalizzate con foto satellitari e quindi hanno cominciato a fare pressione ovunque con piccole unità questo disperde le riserve ucraine e soprattutto come diceva bene Paolo non consente all'artilleria ucraina di concentrare il fuoco perché nessuno va a chiamare un fuoco di una batteria da 155 per 8 uomini 8 uomini qui 8 uomini a 500 metri 8 uomini a 1 km e continuano a fare pressione così un po' ovunque soprattutto dalle parti di Avdifica sembra una specie di offensiva generalizzata fatta da migliaia di piccole punture di spillo che vanno praticamente a creare over stretch cioè a mettere sotto pressione il fronte ucraino che è costretto praticamente a tamponare ogni momento le situazioni mandando le unità migliori a risolvere poi hanno creato i loro gruppi d'assalto i loro storm gruppi Z storm che sono quelle truppe che dicevi te piccoli raggruppamenti che vanno a fare cose particolari ma di grandi azioni non se ne vedono né si vedono grossi raggruppamenti russi la guerra è praticamente su tutto il fronte senza soluzioni di continuità con piccole azioni di piccole unità tutti i giorni con grandi rotazioni in maniera continuativa bisognerebbe a questo punto fare una seduta spiritica ed evocare lo spirito di von Clausewitz chiedendogli che fine ha fatto che fine farà il principio della massa per esempio visto che è morto il principio della sorpresa il principio della massa è ancora un principio e come si vince una guerra se non realizzi la massa critica nel punto voluto cioè nella gravitazione quello che poi chiedono gli americani concentratevi tutti in un punto fate quello che dovete fare in un obiettivo limitato come hai ben riassunto tu che si riassume con la parola militare gravitare cioè decidete voi da che parte andare a sbattere le corna però per fare questo bisogna comunque non si può prescindere dal principio della massa che può essere un principio di massa diluita può essere un principio di massa diluita ebbè no è una contraddizione o è massa oppure deve essere deve essere non è senso come il lottatore di sumo come il lottatore di sumo uso il mio peso nel tempo per sbilanciarti è la quantità di moto è un praticamente io la massa assumo la massa di una locomotiva per cui mi accorgo che c'è la locomotiva vedo anche che è su quel binario quindi so sicuramente individuare che cosa mi viene addosso però il problema è che come la fermo la locomotiva se non ho qualcosa che sia adatto a fermare la locomotiva chi usa la locomotiva io la tengo ancora questa similitudine chiusa la locomotiva sa per certo che alla fine di quel percorso non avrà più una locomotiva ma avrà un carrellino perché il tasso di consumo sarà per forza in assenza di sorpresa sarà per forza molto molto forte per quello parte in tanti la situazione a Crinchi è un esempio di questo ci sono l'800 decima Fanti di Marina una unità un reggimento Storm Z che sono quelli che utilizzano la nuova tattica d'assalto dall'altra parte il 38esimo Fanti di Marina in Ucraina che sono mesi che praticamente se le danno per Crinchi cioè questo mucchietto di case a volte avanzano in Ucraina a volte avanzano i russi ma essenzialmente non cambia assolutamente niente quello che ho notato io è che non ci sono grossi raggruppamenti si va a combattere anche in zone che erano diventate dormienti chi sentiva più parlare di Kamianca all'inizio dell'offensiva a Ucraina si sentiva parlare di Kamianca dove c'era la 128esima da Montagna e altre unità che presero Piatti Kat che si è andate a vedere ora sono tornati all'azione i russi proprio a Kamianca con una piccola unità cioè alcune parti di un reggimento a Verbove dove si era creato il saliente dell'offensiva a Ucraina ora il saliente sta rientrando noi l'avevamo l'avevamo detto inevitabilmente era una posizione non mantenibile se non riesci a sostenere il momentum infatti stanno perdendo se torniamo a risumare i principi dell'arte della guerra e guardiamo la situazione in varie parti di questo fronte c'è qualcosa di incomprensibile tipo tenere dall'altra parte di un fiume con un fiume alle spalle un fiume di quelle dimensioni delle proprie forze con nessun compito stai là dall'altra parte ecco per vedere giusto per posso dire un obiettivo politico non capisco qual è l'obiettivo politico prepararsi a una brutta figura non la vedo è successo a Bakhmut in questa guerra si vede spesso succedere qualcosa che esula completamente dalle logiche militari che puntano sempre che puntano sempre al risparmio degli uomini non si buttano un cannone te lo possono anche ridare due f16 ti possono anche arrivare ma costituire un nuovo battaglione è una cosa difficilissima e lunghissima per cui tutti in guerra cercano di evitare di farsi impallinare in modo inutile e qui purtroppo si è visto più di una volta che l'impallinamento inutile è da tutte e due le parti è uno sport abbastanza praticato faccio il caso sul fronte stanno sboccando sempre di più unità SOF sono o Fanti di Marina o SOF in tutto il fronte di Kersson sono queste le unità che qualcuno aveva detto che è una nuova tattica che poi non è neanche tanto nuova ma è una tattica vecchia mettere sul fronte gli ultimi arrivati i mobilitati quelli così quelli che praticamente devono reggere botta per dieci minuti alle spalle di questi tenere invece unità tipo la ZOF tipo unità della Fanti di Marina qualcuno che sa fare il mestiere in ruolo chiamiamolo di pompiere tu accetti del fatto che i russi in qualche modo vanno avanti approfitti del momento in cui si stanno riorganizzando dopo quello che sembra una piccola vittoria locale e li colpisci li colpisci con gente che è più abituata al combattimento però dov'è la cosa che non funziona se tu utilizzi la gente meno preparata come velo costante la gente meno preparata prima o poi finisce secondo se usi i pompieri in tutto il fronte prima o poi anche i pompieri si stancano e finiscono non è una cosa che funziona il ruolo delle baffe NSS che devono fare i pompieri io lo dico questa tattica è già utilizzata da 3-4 mesi esatto era una cosa nuova sul fronte orientale l'hanno già fatto mettevano davanti chi riuscivano a trovare con un elmetto con un frizzo in testa dice tu stai qua e spara se ce la fai resisti un'ora 2-5 nel frattempo io ti mando quel battaglione di SS corazzate che riesce a farlo però poi finisce la cosa questo è quello che stanno facendo i russi se va a vedere nel saliente di Verbove tutte le unità che sono diciamo a tenere la linea di contatto sono le unità Bars Rosgardia qualche unità di Lugansk mentre le unità pompiere come le chiamo io sono quelle dietro della BDB sono tutte dietro stanno dietro è un velo di truppe dietro reggimenti battaglioni guarda la loro disposizione è a mezzaluna sotto il saliente quando c'è da agire vanno e poi se ne tornano indietro stanno facendo anche gli ucraniani io vi devo premettere che tra qualche minuto vi devo salutare perché come vi avevo detto ho questo impegno e il tempo passa con piacevolezza quindi non so se vi posso ti faccio ti faccio una carrellata della situazione essenzialmente i russi stanno guadagnando terreno riducendo il saliente di verbove robotine si stanno mangiando piano piano il terreno come vedi le unità ucraine piano piano rientrano nel saliente una posizione che non ha senso visto che non hai possibilità di andare avanti il resto del fronte di Zaporizia è essenzialmente fermo la situazione diciamo dove sta venendo di più che si è accesa è la situazione la nuova Mikhailivka che si trova a sud di Marenka Marenka ormai praticamente conquistata dai russi dove qui si stanno formando tutta una serie di piccoli salienti che ovviamente pongono gli ucraini in posizioni estremamente svantaggiose e poi la tecnica come ho detto prima degli spilli di decine e decine di microattacchi veramente ho visto due carri armati 6 BMP e 28 uomini per dire come massima unità che viene utilizzata per tutta una serie di attacchi che avvengono a nord di Avdivka con piccoli guadagni incrementali nella zona industrializzata sotto la collina di scarti carboniferi a Stepove a nord di Stepove e nei primi quartieri a sud di Avdivka lo stesso vale per la zona sud di Avdivka o Pitne e Vodiane dove ci sono tutta una serie di campi minati sempre per supportare questo discorso del fatto che i russi non fanno un'offensiva generalizzata ma attaccano un po' ovunque sono tornati ad attaccare a Bakhmut un po' ovunque sia nella zona di Klesivka di Avdivka sia a Cromove e pare anche un pochino più a nord anche qui avvicinandosi a Bohdanivka e prendendo Cromove abbastanza velocemente rispetto a quanto ci avevano messo gli ucraini prima e addirittura si sono attivati a nord cioè a nord di Solidar in questo momento c'è tutta una serie di attacchi russi a nord di Vesele che chiaramente stanno creando una posizione non sostenibile per gli ucraini e anche dalle parti di Mikolaivka Fedorivka e pare che abbiano preso per esempio più a nord questo piccolo paesino che si chiama Spirne cioè stanno puntando praticamente su tutto il fronte a fare pressione e ultimamente ci sono video geolocalizzati che si sta combattendo sempre di più dalle parti del fiume Siverski a sud di Kremina Svatove nella foresta ed è chiaro che i russi vogliono estromettere gli ucraini da questa posizione che li tiene praticamente col fiume alle spalle ma non solo continuano ad attaccare anche ai fianchi di Torske a Jampolivka cioè un po' ovunque i russi stanno facendo pressione o saggiano tutto il terreno o hanno intenzione letteralmente di continuare li stanno cuocendo a bagnomaria stanno alzando una fiammella leggera che comunque scalda tutto il fronte scaldare tradotto in altri termini significa che devi consumare per quanto c'è un dato di fatto che gli russi sanno bene gli è stato detto agli ucraini guardate che quello che vi abbiamo dato è quello che ci avete le munizioni arrivano poche e arriveranno sempre poche però se sei sempre sotto pressione anche in questo modo quattro cannonate le devi per forza tirare quattro oggi quattro domani considerando che te ne arrivano due anziché le quattro che hai sparate comunque indebolisce l'avversario lo indebolisce permanentemente senza avere neanche un piano di guerra chissà che cosa lo sta cuocendo a bagnomaria la domanda come si esce dalla bagnomaria per esempio riducendo l'ampiezza del fronte io non mi meravaglierei che prima o poi a qualche ucraino venisse la bella pensata di rettificare un pochettino e concentrarsi allora diventa una difesa di altro tipo e il principio del bagnomaria funzionerebbe molto molto meno ma finché ritengono questa postura difensiva su 800 km di fronte basta solamente punzecchiare dalla mattina alla sera perché alla fine di quella giornata avrai un tot numero di perdite avrai un tot numero di colpi sparati di litri di carburante consumato di mezzi messi fuori di combattimento che ti indeboliscono giorno per giorno a fronte del fatto che ormai è chiaro che non vieni rifornito come prima guarda ti voglio far vedere questo attacco russo a Sinkivka secondo me a parte che probabilmente sono incappati in delle mine come si può vedere soprattutto per quanto riguarda questo BMP a un certo punto si vedono molti sbuffi di quelli che sembra essere una munizione a grappolo ne convieni? da qui non riuscirei a dire sì sì queste sì queste sì questo quello che si vede gli sbuffetti piccolini intorno sì quelli piccolini che si vedono sì questo è il massimo degli attacchi sono due colpi diversi sono due colpi diversi il primo che arriva lo sbuffo grosso è un colpo d'artilleria o di una mina quegli sbuffetti sparsi possono essere delle cluster bombs questo è un tipo di colpo adesso dovrebbe arrivare vediamo un po' tutta una specie di questi così questi qua sono piccole cluster bomb che vede sono anche quasi circolari come 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 disposizione sul terreno raga io vi devo salutare mi dai un secondo per augurare buon anno a Mirko che sta tanto lavorando a Millennium che è la prima volta che conosco ma sono rimasto sorpreso dalla competenza che ha nella sua materia e del modo chiaro che ha di esprimerlo e auguri a tutti quelli che a casa mi hai chiamato collega generale prima mi hai chiamato collega assolutamente no guardi sono la colleganza è una cosa ci collega all'interesse per queste cose e un auguro di buon anno per quelli che e sono tanti ci hanno seguito per tutto quest'anno e ci seguiranno nei mesi nei mesi prossimi è la ragione per cui siamo qua e li ringrazio quindi grazie a tutti e alla prossima grazie a te Paolo buon anno grazie penso che qualcuno chiedeva per il libro ci stiamo lavorando entro il 20 gennaio dovrebbe essere pronto stiamo lavorando a tutte le grafiche e il resto io vi ho messo un sacco di fonti localizzate quasi tutti gli attacchi che vengono condotti sono di questa entità cioè poche decine di di uomini qualche mezzo blindato è un car armato non vedi nulla di di più grosso che non questo questo ci fa capire che l'intenzione generale è quella di causare pressione un po' ovunque e così vanno avanti forse finché non trovano diciamo il punto di rottura proprio o quello dell'avversario perché non ci sono grosse diciamo cose all'orizzonte c'è una specie di intervista dichiarazione di di Sirski che bene o male si lamenta del fatto che i russi premono un pochino da tutte le parti ma poi non si vede né una grossa operazione in arrivo nella parte dell'altra anche se si vocifra di 20-30 mila uomini di riserva che si stanno accumulando per i russi dalle parti di Donetsk e un pochino più in profondità sono sboccati tre nuovi diciamo battaglioni della riserva russi della Rosgardia con i codici tipo 901 902 circa 5.000 uomini 3-5.000 uomini quindi poi ci sono delle stime delle stime del fatto che i russi in questo momento stiano consumando circa il 40% degli uomini che arrivano mensilmente cioè circa circa la metà Falato Sirki ci dice i russi tentano di mangiare vicino alla foresta di Serebrianca il video che vi ho fatto vedere prima era proprio di Sinkivka un tentativo russo di prendere Sinkivka se volete vedere un'analisi sua dove parla un pochino di tutti i fronti lo trovate a questo link per il resto vi ho messo tanti video geolocalizzati se volete vedere combattimenti a Verbovere o Bottine sia da una parte che dall'altra al massimo vedi una compagnia questo ci rende idea che la prospettiva da una parte e dall'altra è lunga Zalugini lo dice con il fatto di 500.000 uomini che già hanno calcolato le perdite che avranno per il prossimo anno e i russi mi sembra che anche loro insomma si apprestino fra l'altro mi hanno scritto su Whatsapp ma devo verificare io ve la dico me l'hanno scritto su Whatsapp sembra che Putin abbia detto a Xi Jinping che la guerra russo-coreina durerà altri 5 anni una delle cose che una delle cose che notavo ma perché il nostro comune amico Andrea Gaspardo ce l'aveva fatto notare me l'aveva fatto notare era il fatto che i primi contratti di produzione russi nuovi quelli completamente nuovi erano tutti triennali che significa che ti stai aspettando almeno tre anni e pensi di chiuderlo nel quarto questo è andato ringraziamo Andrea fra l'altro ve lo dico se dovessimo farvi se siamo a fine anno mi tocca farlo un calcolo dei cambi territoriali di una parte e dell'altra se date importanza a queste cose c'è gente che si esalta con queste cose ma non ci si può far nulla questa è una mappa di Pulet Volant che ha fatto questo calcolo con i chilometri quadrati presi da una parte e dall'altra dall'offensiva di Bakhmut fino ad oggi guadagni territoriali a favore degli ucraini più 523 chilometri quadrati perduti 587 quindi il risultato complessivo dell'anno per gli ucraini è circa 50 chilometri quadrati persi se invece guardiamo l'anno precedente sicuramente è a favore degli ucraini per il fatto che i russi si sono ritirati da molte zone quasi la metà di quello che avevano preso se si va a considerare che erano arrivati fino a Mikolaiv e che erano arrivati intorno a Kiev nel complesso vado a memoria i russi detengono ancora circa il 17,6% del territorio ucraino quello che si denota è che in questo anno né i russi né gli ucraini sono riusciti a dare una svolta alla guerra alla fine quello che è avvenuto tra Bakumut e l'offensiva ucraina è un pareggio in termini di scambio territoriale quindi un anno per 50 chilometri quadrati fatevi due conti alla fine è questa roba qui cioè se dovessimo andare sulle prospettive se Putin veramente ha detto a Xi Jinping cinque anni in cinque anni se si va avanti così sono 250 chilometri quadrati certo le guerre non funzionano in maniera lineale ma se il passo è questo se tanto mi da tanto sarà ancora una storia piuttosto lunga insomma non ci sono tecnologie come sperava Zaluzni nella sua dichiarazione che possono cambiare improvvisamente questo status quo l'altra questione ovviamente è quella degli aiuti perché quella degli aiuti perché ancora si discute molto in America sul supporto all'Ucraina ogni tanto vengono dati piccoli fondi tipo 350 milioni 400 milioni per fare da tampone ma alla fine il succo vero e proprio è questa situazione qui c'è un ottimo articolo del XIS Center for International Strategic Studies che vi consiglio perché parlano proprio di tutti i casini che ci sono nel senato americano per quanto riguarda far passare i fondi e c'è un'ottima analisi della suddivisione di questi fondi perché non è che tutti vanno direttamente all'Ucraina ci sono anche dei fondi che vanno al Dipartimento della Difesa Americana e al bario diciamo tutto l'indotto produttivo perché non è che tu prendi un'arma e la consegni la devi trasportare c'è qualcuno dell'eserro città americano che lo fa e quindi si parla anche di posti di lavoro qui c'è un breakdown c'è diciamo uno smantellamento di come vengono utilizzati questi fondi si può vedere costi operativi di mantenimento procurement di munizioni procurement di missili supporto economico perché l'Ucraina più o meno tra pagare la gente i soldati spende 6-7 miliardi al mese quindi anche questi 70-80 miliardi alla fine li danno 10 mesi di benzina per dare un'idea mezzo anno se si rimane sugli stessi livelli di intensità e gli americani rappresentano ancora il 74,5% dell'importo totale richiesto dal fabbisogno ucraino stante ai consumi attuali poi se le cose aumentano è un altro paio di maniche quindi questo è un ottimo articolo che fa capire anche tutti i casini interni nelle questioni politiche essenzialmente i repubblicani vogliono farsi votare la legge contro l'immigrazione per poi dire votiamo il fondo all'Ucraina questa è l'idea di base insomma però ci sono un sacco di un sacco di blocchi in questo senso quindi non si sa certo se posso solo aggiungere una cosa poi vi devo salutare anch'io una cosa che ho trovato abbastanza interessante è che in tutti i pacchetti di supporto americani non si fa praticamente mai cenno a velivoli nel senso che l'Ucraina probabilmente riceverà questi F-16 forse riceverà qualche Gripen dalla Svezia ma sembra che gli americani non abbiano intenzione di fornire sostanzialmente nulla cioè questo considerando la dottrina nato-americana è effettivamente da effettivamente da pensare o che abbiano imparato la lezione Augusto cioè smetterla di dichiarare cosa mandi beh però se lo devono infilare dentro nell'approvazione del congresso uno dice dovrebbero allora per come funzionano gli Stati Uniti è una se volessero se dovessero inviare dei velivoli sarebbero difficili da nascondere ecco se si tratta di inviare qualche arma proprio appariscente sicuramente sì però se volessero per esempio fornire un po' di vecchi F-16 giusto giusto per costituire giusto per cominciare a costituire al volo una forza aerea di tipo occidentale completamente di tipo occidentale ci sarebbe qualche indicazione fino adesso non ho veramente visto ma anche non se ne parla cioè non ho mai sentito nessuno che nel quadro degli aiuti all'Ucraina abbia nessun analista nessun anche militare abbia detto bisogna creargli una forza aerea così possono operare come opera la Nato o come opereremmo noi insomma l'ho trovato interessante ecco detto detto questo grazie mille per l'invito grazie a te buona fine anno e buone feste soprattutto seguite Millennium 7 è in inglese ma è il miglior canale per quanto riguarda le questioni aeronautiche quindi fatelo troppo buono troppo buono se non faccio solo video su io sono uno che fa video su youtube parlando con una spiera povere questo è quanto saluti a tutti buon anno buona giornata allora io qui ringrazio NordVPN che ha supportato questa live e ho ancora un paio di cose da discutere con voi quindi ricordate se volete supportare il nostro lavoro perché poi alla fine è un lavoro corale del mio team degli ospiti e di tutto il resto c'è lo sconto natalizio 4 mesi extra il codice è Parabellum potete utilizzarlo per tante robette per esempio se siete francesi lo potete utilizzare per guardare la mia recensione sul film Napoleon perché pare che è stato bloccato in Francia è l'unico paese in cui è stato bloccato io ho ancora un paio di cose da raccontarvi una riguarda un'analisi secondo me molto interessante che è dedicata agli Abrams ma essenzialmente vale per tutti i carri armati cioè questa analisi qui dei problemi che i carri armati Abrams potrebbero dover affrontare contro i droni suicidi russi perché essenzialmente vengono utilizzate anche testate hit da RPG7 che ovviamente vanno a colpire la parte più debole come si può vedere la tendenza è andare a colpire il lato cielo della corazza per esempio ormai gli operatori dei droni sono molto molto bravi e vanno a colpire esattamente per esempio il sistema idraulico di rotazione delle torrette dei Leopard 2A4 eccetera e bene o male quasi tutti i carri occidentali che non erano pensati per combattere in una zona con così tanti droni hanno pochissima corazza lato cielo sia frontale che sulla torretta il che li rende come i carri russi molto vulnerabili a essere colpiti proprio da quel lato e questo significa che in futuro i mezzi corazzati andranno pensati anche per essere corazzati proprio da questa parte e questa analisi qui è fatta sull'Abrans ma essenzialmente vale per tutti i carri armati cioè l'Abrans ha 25 mm di corazza lato cielo e anche quella frontale lato cielo sono 38 mm quindi qualsiasi anche vecchia testata è sufficiente per bucarli questa è una vulnerabilità di tutti i carri armati ho visto ultimamente un T-72 che forse ha fatto il record di volo della torretta ma è un difetto che hanno tutti i carri armati lato pare che le difese laterali le gondole laterali le skirt degli Abrams sono composite soltanto per la parte frontale diciamo se il carro è inclinato di 45 gradi nella parte retro cioè quasi due terzi del carro in realtà è semplice lamiera potrebbe funzionare come armatura spaziata ma probabilmente anche no quindi questa analisi è dedicata agli Abrams ma essenzialmente vale per tutti i carri armati fortunatamente i carri occidentali hanno un vantaggio cioè quello dei blowout panels cioè le munizioni sono retrostanti alla torretta con dei pannelli che se le munizioni si incendiano quindi vengono detonate si sfogano verso l'alto e come si può vedere l'equipaggio può uscire certo può capitare che il drone magari colpisca la torretta nel momento in cui c'è un colpo in canna o l'operatore sta avendo letteralmente una munizione in mano o tiene per caricamento rapido qualche munizione magari appoggiata sulle ginocchia quindi generalmente i carri armati si vengono bucati quelli occidentali ma almeno non fanno l'effetto jack in the box che si è visto fare quindi quasi tutti in ucraina tendono a utilizzare le gabbie queste specie di reti da letto per ovviare proprio all'utilizzo di queste testate hit anche vecchie le vediamo sia sui T90M come sui Challenger come su altri carri armati l'altra notizia invece abbastanza particolare è quella dell'utilizzo di armi chimiche qualcuno chiede cos'è l'armatura spaziata può essere anche un semplice pezzo di ferro una testata hit quando penetra funziona se dall'altra parte c'è qualcosa di compatto nel momento in cui c'è un vuoto tra l'armatura spaziata e il carro vero e proprio tende a disperdere il getto quindi buca di meno se ha 30 40 50 cm essenzialmente non riesce proprio a bucare se non sapete come funziona una testata hit andatevi a vedere qualche schema per capire ci sono delle ottime animazioni in giro quello che è venuto fuori ultimamente è che pare che i russi dell'800 decima Fanti di Marino abbiano utilizzato con i loro droni delle granate K51 che sono delle granate a gas e perché lo sappiano quindi non datemi del filo ucraino perché nel telegram ufficiale dell'800 decima Fanti di Marina l'800 decima ha praticamente fatto un post cioè che ne dichiara l'utilizzo e poi molto velocemente siccome dei militari blogger russi si sono lamentati di questa cosa l'hanno cancellato ma ovviamente era troppo tardi ormai sono stati fatti gli screenshot e la cosa è girata ovunque e vi dico di più c'è anche un video che mostra l'utilizzo della granata vera e propria non è di grande qualità ma si può vedere lo sbuffo vero e proprio del gas viene buttato su una piccola trincea ucraina un buco e si può vedere l'effetto della granata che genera il gas sono lacrimogene essenzialmente servono per stanare la gente ma se rimani in un buco puoi morire anche asfissiato da questi da queste granate K51 la 810 aveva dichiarato un cambio di tattica hanno tirato fuori questa storia e poi molto rapidamente l'hanno cancellata perché ovviamente anche la Russia è firmataria degli accordi sul non proliferazione di armi di armi chimiche questa è la granata in questione poi vi ho messo tutta una serie di link che vanno a spiegare il funzionamento l'utilizzo e la storia di questa granata insieme a tutta un'altra serie di fonti incluso un articolo che linka direttamente il telegram dell'800 decima dove se lo dichiaravano da solo insomma l'utilizzo per l'altro sono venute fuori nuove liste delle perdite subite dai russi ad Adivka e anche quelle ucraine cioè questo analista Osint che praticamente ha tirato fuori un google document che voi potete aprire giorno per giorno praticamente va a raccogliere tutte le perdite subite da una parte e dall'altra e nello spreadsheet potete praticamente vedere la fonte cioè il video di riferimento già localizzato vedete potete andare a destra trovate tutte le fonti quindi sono tutte perdite confermate da una parte e dall'altra come si può vedere c'è un T-64B ucraino un T-72AB e altre mezze e anche la tipologia di di ordigno che è stato utilizzato per distruggere la maggior parte come potete vedere sono droni la maggior parte dei mezzi che viene perso viene perso o per artilleria quindi shelling oppure proprio per drone suicida questo fa capire come l'utilizzo di mezzi è diventato estremamente difficoltoso per tutti quanti appena viene fuori un blindato compaiono subito dei droni suicidi che lo fanno saltare in aria parlato ultimamente si vedevano proprio delle azioni di droni ucraini che colpivano dei BTR russi se ricordo bene anche questi dalle parti di Sinkivka e molto spesso gli equipaggi quelli che sono fuori non sono diciamo avvezzi a quello che gli sta succedendo intorno e quindi vengono colpiti senza che si avvedano del drone cioè ne sono sempre due uno che fa ricognizione e l'altro invece che va a colpire comunque vi ho messo tantissimi video in questo senso li potete recuperare sono nelle fonti quindi signori miei io vi ringrazio tutti quanti vi auguro buon anno ci vediamo il 30 perché avrò ospite Yuri che è un ragazzo italiano che ha combattuto in Ucraina per un anno cercherò di estrapolare più informazioni che posso e quindi signori miei alla prossima e grazie tante a e Grazie a tutti.